Buongiorno, sono Fabio Fidincelli, responsabile sviluppo Sicilia per Gautier Italia. Sono qui in zona Pachino, in compagnia dell'azienda Bugliarisi, per presentare la nuova proposta di Gautier nel campo dei pomodori costruzuti, ovvero Raff F1. Il Raff F1 è una pianta di buona vigoria, molto continuativa, che assicura un ottimo standard di allegagione dai primi palchi fino ai palchi superiori della pianta. Per quanto riguarda le resistenze, ha il verticillium deria, il virus del mosaico, il verticillium alboatrum, il fusarium eoxporium radicis e i radici seriopersici e il cadosporium fulcum, i tre ceppi in ematodi più il TILC. Adesso però passo la parola all'azienda per rilasciare la propria testa di un'azienda. Salve, buongiorno, mi chiamo Giuseppe Bugliarisi, questa è la mia azienda, qua siamo la mia serra, sull'indicazione del nostro partner commerciale per il primo anno abbiamo coltivato tutta la superficie dell'azienda a Raff F1. Come penso la varietà si mostra molto utile nelle varie epoche di trapianto, abbiamo fatto tra piante da settembre fino a febbraio, perciò è molto, qualità ovviamente è bellissima anche da vedere, se lo vedete qua. Il Raff ha una qualità uniforme, ha una bella spalla, un bel colore, una pezzatura ideale per il mercato che abbiamo in questo periodo, poi in questo momento abbiamo anche calcolato e visto con il suo grado Briggs che ha un valore di 7,5 e è la vera opportunità di questo Raff è data dall'utilizzo dei bombi.